Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. Benvenuto professore. Buongiorno a tutti e a tutte, anzitutto buon'estate perché il periodo è questo e cerchiamo di godersela il più possibile. Ecco, professor Novara, voi anche quest'anno, a fine agosto, avete programmato il convegno del CPP e la vostra intenzione è quella di fornire i giusti stimoli per ripartire nei migliori modi con il nuovo anno scolastico. Il suo metodo è centrato sulla situazione stimolo, ci spiega di cosa si tratta? Esatto, ogni anno, ormai il 4 o il 31 agosto, implacabili come la fine delle ferie, torniamo con un'occasione online, proprio per permettere a tutti e a tutte gli insegnanti di partecipare e quest'anno il tema è proprio quello della situazione stimolo. La mia preoccupazione al proposito è molto semplice, bisogna uscire dall'equivoco che imparare corrisponda ad ascoltare e che il buon insegnante sia il buon parlatore o spiegatore, sia quello ben affermato nella capacità di fare lezioni più o meno istrioniche. Ecco, facciamo attenzione, i dati scientifici sono implacabili, i tempi attentivi sono bassissimi, la predisposizione alla distrazione è fisiologica e i nostri alunni spesso e volentieri si organizzano facendo finta di ascoltare. Lo sguardo catatonico l'hanno inventato loro, quelli di questa generazione, noi non eravamo riusciti in tanto, lo sguardo catatonico è la capacità di osservare chi sta parlando senza ascoltarlo. è qualcosa che veramente va al di là delle capacità proprio dell'insegnante stesso, ma i ragazzi ce la fanno. Non funziona, abbiamo bisogno di un'altra scuola, la scuola così come spesso e volentieri anche le circolari ministeriali l'hanno così sognata, diciamo, una scuola a laboratorio, una scuola che specialmente fa lavorare gli alunni, non dove l'insegnante perde la voce e le corde vocali sembrano quelle di un baritono. No, è la scuola dove i ragazzi proprio sulla base di queste situazioni stimolo riescono poi a sviluppare le loro domande, riescono a sviluppare una scuola basata sulla ricerca, sulla problematizzazione. Pensiamo in questi giorni al tema del gran caldo, è un tema straordinario, se fossimo a scuola sarebbe una straordinaria situazione stimolo. Nel gran caldo si creano poi gli effetti climatici estremi. Ieri su web guardavo questa grandinata terribile, in Brianza, con addirittura lastroni di ghiaccio che si sono formati. Questa situazione stimolo diventa un'occasione anche disciplinare, c'è dentro tanta scienza, c'è dentro tanta letteratura, tanta cronaca, tanta matematica, tanto di quello che la scuola può proporre ai suoi alunni per vivere esperienze, non per vivere l'ascolto come se fossimo in un teatro. La scuola non è uno spettacolo di maestria magistrale, ma si impara facendo. E quindi la situazione stimolo mette in moto proprio un propulsore, un po' come la chiave, nelle macchine, nelle automobili di una volta. Adesso gli automobili ormai non hanno più la chiave, ma io ancora questo bellissimo ricordo, mettevi la chiave e facevi partire l'auto. Vale come metafora per dirci, ci vuole qualcosa che accenda la motivazione dei nostri ragazzi. E non sarà mai uno spiedone, perché quello annoia, annoia semplicemente. Ecco, lei ci parla di un metodo che è basato sull'approccio maierdico, un metodo che ha origini antiche, introdotto per la prima volta nel Tededo di Pratone, dove riporta questa metodologia del partorire con la testa del maestro Socrates. Se è un metodo così antico, ovviamente aggiornato ai tempi di oggi, perché nel nostro paese è ancora così poco diffuso? Ma più che un metodo, quella socratica è una metafora. D'altra parte si dice che Socrate fosse figlio di una levatrice e che quindi da lì lui avesse dedotto quel metodo di ricerca della verità. attraverso le domande, Socrate e poi in realtà è Platone che sta parlando, riusciva a tirar fuori la verità nel suo interlocutore. Ecco, è solo una metafora perché nel mio metodo non ho nessuna intenzione di tirar fuori la verità. non è un metodo filosofico nel più assoluto dei modi. Utilizzo il termine maieutico nella semantica greca, che sta proprio nella corrispondenza del termine latino ostetricia. Far nascere, l'arte di far nascere, in un certo senso potremmo dire che il termine maieutica è anche un po' sinonimo di educare, perché come è noto educare deriva da educare, che anche quello ha una significazione di tirar fuori. mentre quello termine maieutico è ancora più forte, proprio l'arte di far nascere. Quindi è un metodo che si propone di mettere a scuola, ma non solo a scuola, gli alunni, le persone, in una condizione in cui tirino fuori le loro capacità, le loro intelligenze. com'è importante che noi riconosciamo le diverse intelligenze degli alunni a scuola, intelligenza linguistica, narrativa, spaziale, matematica, musicale, corporea, e riconoscere poi l'importanza di quello che ci ha ricordato la neuroscienza, ossia che l'apprendimento è, specie per i bambini piccoli, anzitutto un'esperienza motoria, motoria e quindi sia importante costruire situazioni anche di movimento nell'ambito scolastico, il valore delle pause, per esempio, tanto più le pause motorie, che trovo sempre molto ghiacciante quando mi ricordano che in alcune scuole per punizioni il break, l'intervallo viene addirittura sospeso. Io mi chiedo, a questi insegnanti hanno tendenze autolesive, ma come fa? È fondamentale il poter avere per i nostri alunni questi momenti. Allora, il metodo utilizza questa metafora per dire agli insegnanti che costruiamo una metodologia che renda protagonisti gli alunni, che li faccia lavorare sulle domande altrettanto maieutiche, ma specialmente che li porti a un'azione concreta nel processo di apprendimento. Ecco, professore, stiamo su quell'argomento. Un incontro fondamentale per lei è stato quello con Danilo Dolci, che teorizzava un metodo di temanietro che era reciproca. Ci racconta quanto è stato importante per lei questo incontro? Danilo Dolci è una figura della storia italiana veramente importantissima in questo momento piuttosto sacrificata dal punto di vista mediatico e della conoscenza, anche se su Rai Play si trova qualcosa. Negli anni 50 era uno degli italiani più famosi al mondo, le sue lotte per lo sviluppo della Sicilia occidentale in condizioni di povertà quasi estrema dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua lotta alla mafia, l'utilizzo delle tecniche non violente, della non violenza gandiana, per la prima volta in Italia, il digiuno, lo sciopero lo rovescio, la creazione della prima radiolibera nel post terremoto del Belice, le esperienze che hanno fatto di lui una figura famosa a livello internazionale. Si dice che la mafia non lo colpì per non avere troppi riscontri internazionali, essendo lui veramente famoso. Poi è calato il silenzio su questa grande figura che era anche un educatore, realizzò alcune scuole, molto famosa la scuola di Mirto, vicino a Partinico, dove la giornata nella scuola dell'infanzia iniziava chiedendo ai bambini letteralmente quali erano i loro interessi. Io l'ho conosciuto nell'ultima parte della sua vita, ho lavorato una decina d'anni con lui, anche se un po' in presenza, un po' a distanza, e la cosa che mi ha lasciato è il gusto dell'ascolto. Danilo era uno straordinario ascoltatore e non badava se stava ascoltando il Presidente della Repubblica a un ragazzo qualsiasi, gli interessava la storia di una persona, quello che stava facendo, quello che stava vivendo. Per me è stato un impatto davvero importante trovare un personaggio, una personalità così di rilievo che ascoltava e non cercava di mettersi al centro dell'attenzione, ma di dare la scena anche a noi giovani. E questa lezione, chiamiamola così, questa è una vera lezione magistrale, santo che quelle che tante volte troviamo nei festival, mi è rimasta addosso, e mi ha dato la conferma che ascoltare è importantissimo. Pensa che ho inventato una tecnica, l'ascolto senza commento. È una tecnica straordinaria che utilizziamo nel metodo maieutico sulla relazione d'aiuto, ma la scuola dovrebbe ritornare su figure come Danilo Dolci proprio per acquisire la capacità di mettersi in una situazione di ricezione dei ragazzi, delle ragazze. Pensa che a volte giravo con lui le scuole, le scuole escondarie superiori con gli adolescenti e lui chiedeva qual è il tuo sogno. Qual è il tuo sogno? A questi ragazzi e ragazze, loro intervenivano, parlavano, era straordinario, che nessuno aveva mai chiesto a questi ragazzi qual è il tuo sogno. E quindi un'altra grande lezione è che le domande devono essere maieutiche, poi come a volte si fa a scuola a continuare a fare domande di controllo. Qual è l'isola dove è nato Napoleone? Qual è l'isola dove è stato esiliato per la prima volta? Qual è l'isola dove è concluse la sua... esistenza terrena? E quindi devi rispondere. Consica, isola d'Elba, isola di Sant'Ela. No, non ce la possiamo fare. Ecco, la scuola non è un insieme di ripetizioni a pappagallo. Ecco, la scuola è vita, è vita, è esperienza, è scolè, come dicevano gli antichi greci, un modo per sviluppare i propri interessi. Allora tutto questo è possibile perché in fondo basta seguire anche tante indicazioni che arrivano anche dalle circolari ministeriali. Pensiamo alla circolare che è molto utile, i compiti di realtà, quindi non gli eserciziari estivi. In un'intervista ho detto li possiamo usare per accendere le grigliate. Un'esagerazione per carità e chiedo scusa, ma però i compiti di realtà sono centomila volte meglio. Vai a vedere una mostra, vai a vedere un film all'aperto, vai a fare un'esperienza in un bosco e cercare le tracce degli animali. Ecco, esperienze, leggi ovviamente l'estate, è un momento eccezionale per la lettura, leggi almeno sei libri, tre libri, un libro, leggi qualcosa, fai un viaggio in un posto dove non sei mai stato, cerca di imparare una lingua straniera, se conosci già l'inglese imparane un'altra. Quello che si impara da ragazzi ti resta addosso tutta la vita, vai a fare un corso musicale, un corso sportivo, dai, dattila a fare, non sono gli eserciziari che ti fanno crescere. E se tu riesci a imparare, a imparare in maniera applicativa, non ripetitiva, questo, no? Il mio metodo va sull'applicazione, non sulla ripetizione. Non mi interessa cosa sa ripetere o quali crocette mette un alunno, ma mi interessa che poi sia in grado di utilizzare concretamente quello che ha imparato a scuola. Che ne so, anche solo se uno facesse latino a scuola, ecco, mi interessa capire, se entrando in una chiesa sa leggere un epigrofe latino, altrimenti cosa serve? Cosa serve? Non so se mi spiego. Ecco, professor Noara, chiudiamo con un'ultima domanda. Da quello che ci siamo detti fino ad ora, è sempre più evidente la necessità di un approccio pedagogico nella scuola. In Italia formiamo figure specializzate in questo ambito, che però non utilizziamo laddove servirebbero di più e sarebbero più efficaci, ovvero proprio nella scuola. A questo punto le chiedo, citando un titolo del suo libro, cambiare la scuola si può? Beh, questo è un punto chiave della scuola italiana, intendiamoci, perché la pedagogia in Europa è assolutamente in auge diffusa, anche se è così, sempre fra alti e bassi. Noi lavoriamo in Europa con i colleghi pedagogisti, con i pedagogisti e le pedagogiste presenti nella scuola. Diciamolo chiaro, se c'è una scienza dell'apprendimento e dell'educazione, è la pedagogia, che si nutre ovviamente di psicologia, psicanalisi, sociologia, antropologia, eccetera eccetera. È una scienza pratica, come l'architettura, un architetto quando deve progettare un palazzo deve conoscere la geologia, anzitutto vedere se l'ha progettato in un posto dove starà in piedi, deve riconoscere i materiali per forza di cose, eccetera eccetera. In questo poi ci fa aiutare da altri esperti. Non dimentichiamo il grande Jean Piaget, il più grande psicologo dell'età evolutiva, dei tempi moderni, che diceva io faccio un lavoro scientifico e metto a disposizione del pedagogista i dati che gli servono per poi organizzare il progetto scolastico educativo. Ecco, da tantissimi anni queste figure pedagogiche sono scomparse letteralmente dalla scuola. La legge della professoressa Vanna Iori cercò di rilanciare, ma poi non vennero fatti i regolamenti attuativi. Adesso abbiamo in corso un tentativo molto serio su cui presumo che anche Orizzonte Scuola tornerà, ossia la creazione dell'albo dei pedagogisti, dare dei segnali che non c'è solo la pedagogia come materia accademica, perché è paradossale. Noi abbiamo tante materie di pedagogia all'università, scienze dell'educazione, scienze della formazione, addirittura tanti si laureano proprio come pedagogisti, ma poi non c'è il lavoro. Non esiste, come dire, un profilo professionale. Questa è una situazione che va assolutamente sanata. La scuola ha bisogno di questo, noi stiamo predisponendo proprio un corso per la figura del counselor pedagogico, counselor scolastico, dal punto di vista pedagogico, proprio per offrire alle scuole questo professionista e che sappia fare cosa? Ovviamente sostenere gli insegnanti nei progetti educativi, dare la possibilità anche agli alunni di avere delle occasioni di laboratorio didattico significativo, offrire una sponda anche ai genitori quando si trovano in difficoltà nell'educazione dei figli. È importantissimo dare una mano ai dirigenti che ultimamente, come è noto, sono più selezionati sul piano della competenza amministrativa piuttosto che sul piano della competenza scolastica in senso stretto, didattica, educativa, pedagogica. E questo è un elemento da sanare perché poi abbiamo dei dirigenti che si trovano cinque o sei scuole da coordinare, dirigere, ma sono bravi, bravi, bravi sull'amministrazione, sulle leggi, sulla giurisprudenza scolastica, ma capite, è come se in un ospedale non ci fossero più i medici, ma solo i radiologi. Ovvio che non ci fideremmo. Ecco, per cui la scuola ha bisogno di questo rilancio, di farcela. Certo che non è una questione del cambiare della scuola si può è di restituire la scuola al suo vero progetto, al suo vero significato, che è quello dell'apprendimento, di aiutare gli alunni a imparare veramente, a uscire fuori dalla scuola, che abbiano competenze di vita, saper vivere, saper vivere, importantissimo, competenze nello sviluppo delle loro intelligenze e quindi competenze applicative nella misura in cui si troveranno ad affrontare le sfide della vita e del lavoro. Tutto questo è lo spirito profondo della scuola, per cui è un come dire, non dico tornare che dobbiamo sempre guardare avanti, ma la scuola del futuro se non vuole essere seppellita dall'intelligenza artificiale deve muoversi, deve accettare la sfida dell'intelligenza artificiale e offrire qualcosa in più e qualcosa di diverso, cioè quel fattore umano che aggrega sull'esperienza concreta, sul fatto che in una classe ci sono dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine e sono la prima risorsa di apprendimento e su questo l'intelligenza artificiale non potrà mai entrare in competizione perché un compagno è un compagno, una compagna è una compagna e non c'è intelligenza artificiale che tenga ma se continuiamo in perterriti a pensare di fare la scuola delle lezioni frontali, la scuola della predella e della cattedra, l'intelligenza artificiale seppellisce la scuola d'antan non c'è, non ci sarà un piano B per la scuola della lezione frontale ma semplicemente l'esaurimento ecco perché è chiaro che la tecnologia può risultare cento volte più accattivante da questo punto di vista abbiamo bisogno ecco di tornare alla scuola laboratoriale concreta vorrei ricordare che in questi giorni ci ha lasciato il grande Francesco De Bartolomeis a 103 anni uno degli artefici di quella parentesi direi italiana la scuola degli anni 70 dove veramente riuscimmo in maniera straordinaria a eliminare le classi differenziali a portare i genitori a scuola a lanciare una scuola alla Gianni Rodari alla Don Milani alla Danilo Dolci all'Alberto Manzi una scuola che rendeva protagonisti gli alunni che era invidiata da tutto il mondo io spero ecco credo che la scuola non deve cambiare ma può farcela a tornare e a come dire credere nel suo potenziale reale ecco non nelle scorciatoie della scuola nozionistica e ripetitiva grazie professor Novara avesse stato con noi grazie a tutti